Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale Infocamper, oggi è l'8 febbraio e questo è un video semplicemente di chiacchiere. Vi racconto un pochino di cose, siamo alla fine del nostro viaggio che abbiamo fatto nel periodo invernale nella parte nord delle foreste casentinesi, quindi la zona nord, avevamo già visitato le foreste nella parte sud con le cose più interessanti e in realtà abbiamo trovato un ambiente naturale che conoscevamo, talmente entusiasmante, talmente bello che abbiamo deciso comunque alcune cose di rivisitare, come ad esempio la zona di Camaldoli e soprattutto il santuario della Verna che è veramente strepitoso, veramente eccezionale. Abbiamo rifatto anche un passaggio al Museo dell'Analistia che è veramente interessante, questa volta l'abbiamo visto con la guida che è veramente un valore aggiunto sicuramente. A proposito, se non l'avete fatto mettete un like e iscrivetevi al canale per questo 2023 così rimarrete aggiornati dei video che caricheremo e di tutte le nostre tra virgolette avventure. Questo video è semplicemente per porvi a conoscenza delle modifiche che ho fatto sul mio veicolo e che in realtà avendole testate le posso anche giudicare. Ho fatto una scheda di lavoro prima di questo piccolo viaggio e ho costretto i ragazzi a metterci pesantemente le mani e il risultato però devo dire è stato soddisfacente. Per prima cosa abbiamo sostituito il paraurti posteriore del discendente che erano ahimè danneggiati da diciamo manovre non proprio particolarmente brillanti. Su questo non c'è assolutamente nulla da dire. Una cosa interessante invece ho sostituito le due telecamere, una posteriore e l'altra nella parte dello scarico inferiore delle acque grigie e devo dire il risultato è stato veramente interessante e molto soddisfacente. Tutte e due le telecamere avevano un problema di FOV quindi di field of view quindi di visione e anche la loro qualità non era assolutamente eccelsa. Ogni volta che accendevo le telecamere mi dava fastidio tendevo comunque a non essere soddisfatto e quindi ho deciso di sostituirle. Non ho preso delle telecamere particolarmente professionali ma nonostante ciò per quello che devono fare sono più che sufficienti. Il progettato è stampato una copertura più che altro di colore nero che permette comunque di proteggerla un pochino dagli schizzi. È normale essendo all'esterno tendenzialmente bisognerà pulire ogni tanto però comunque la posizione è ottima. Nella parte posteriore invece ho sostituito la preesistente sempre con la stessa identica telecamera, lo stesso tipo però ho creato un supporto leggermente diverso e devo dire anche questo come vedete fa bella mostra nella parte posteriore ed è assolutamente funzionale. Ho lasciato spazio leggermente maggiore per permettere comunque una piccola variazione di inclinazione in futuro che in realtà mi servirà perché devo dire che la devo leggermente inclinare però per ora è perfetto. Ho sostituito una cosa molto interessante il secondo serbatoio delle acque bianche. L'ho sostituito innanzitutto con un serbatoio di colore nero che è meno soggetto a formazione di batteri perché è schermato dalla luce ma non solo. La cosa più interessante è che in realtà l'ho preso leggermente più grande, è preformato nella parte centrale, è da posizionare proprio nella parte posteriore dietro la sale posteriore, è più grande 120 litri invece dei miei circa 100, ha un riempimento e un pescaggio sicuramente migliore. Ho studiato un pochino meglio quali erano i passaggi dei tubi e devo dire che adesso sono molto più soddisfatto rispetto a prima. Si riempie meglio, si svuota meglio, il pescaggio è assolutamente molto più efficiente. Ho sostituito il piatto doccia, questo ve ne parlerò insieme ad un sistema alternativo di riscaldamento ad aria per basto. L'ho fatto per diverse ragioni, non è come si potrebbe pensare il prezzo delle bombole eccetera, non è questo ma essenzialmente sono due fattori, essenzialmente uno sono gli enormi consumi che ha il mio sistema Alde e che non mi permette se vado sulla neve di fare più di tre giorni e mezzo, quattro giorni quando fa molto freddo e poi soprattutto, sembra incredibile, ma è il comfort. Alde dovrebbe essere il sistema di comfort superiore a tutti, quindi il grado di piacevolezza nel vivere l'ambiente maggiore di tutti i sistemi di riscaldamento invece io ho preferito in realtà un sistema a questo punto un sistema ad aria però a gasolio e devo dire i risultati sono stati veramente entusiasmanti, ve lo accenno adesso. Per installare questo sistema di riscaldamento logicamente abbiamo tirato sul camper, abbiamo fatto un'analisi degli ambienti, in realtà il mio veicolo era già predisposto per un sistema ad aria, quindi pensavo che la cosa fosse molto semplice, in realtà non è stato assolutamente così ma la progettazione è stata rifatta completamente e il passaggio dei tubi per equilibrare i flussi e creare un ambiente che sia confortevole è stata veramente impegnativa. Abbiamo preso la palla al balzo, come si dice, della sostituzione del piatto doccia proprio per far passare i tubi in un punto che sarebbe stato inaccessibile. Il piatto doccia è stato importante perché nella parte inferiore c'era un bel vano che ci ha permesso proprio di passare all'interno. Il dispositivo installato è un R-TOP55 e adesso entriamo un attimo nel camper perché prima di partire mi ero fatto comunque lo schema di installazione che ho previsto di realizzare. Il risultato è assolutamente confortevolissimo, superiore rispetto a quanto mi aspettavo, ma andiamo dentro e facciamo un'analisi dettagliata e analizziamo proprio anche i risultati. Essendo fuori sede vi dovrete accontentare di una descrizione fatta all'interno del camper, ma alla fine è la cosa migliore secondo me. Andiamo a fare due analisi e diciamo in questo caso vi faccio capire come ho ragionato per la realizzazione di questo impianto che alla fine risulta molto equilibrato. Allora noi abbiamo questa pianta che vedete voi qui non è la pianta del camper mio perché non esiste in rete. Ho preso una pianta simile, ma le considerazioni sono prettamente le stesse. Allora noi fondamentalmente abbiamo due zone, la zona anteriore e la zona posteriore. Come vedete nella parte, la parte anteriore non solo è la parte più finestrata, quindi la parte che presenta le maggiori dispersioni termiche, ma è anche volumetricamente maggiore e come vedete è forse un 55% rispetto a lunghezza totale del veicolo. Cercheremo di calibrare la quantità di calore come se fosse un 60-40. Questo l'ho fatto anche nel veicolo del mio amico nel Baron che era in realtà un semi integrale, però le stesse considerazioni secondo me valgono per il mio veicolo e devo dire che poi i risultati mi hanno dato ragione. Tendenzialmente il kit è composto da 5 bocchette, in realtà io ho l'abitudine di metterne 6, in realtà qui dentro alla fine ne ho messe 10, calibrandone 6 nella parte anteriore e 4 nella parte posteriore. Fondamentalmente questa della porta è la divisione dei due ambienti, zona notte e zona giorno. Andiamo a valutare come è stata fatta realmente l'installazione. Questa è la pianta reale di questo veicolo su cui sto io adesso, il mio veicolo. L'unità è stata montata nella parte più o meno centrale subito dopo il serbatoio delle ocche grigie. Siamo partiti con la tubazione da 90 e siamo entrati nell'unico punto disponibile fondamentalmente che era sotto la cucina. Abbiamo parecchi dietro il lavello e dietro i cassetti che si trovano dietro, c'era un bel vano adattissimo per poter entrare. Quindi siamo entrati con un 90 e ci siamo divisi subito mediante una Y 90 80 80. Quindi il ramo, quindi metà del flusso, lo abbiamo diretto nella parte anteriore e metà del flusso, come vedete, nella parte posteriore. Interessante, parliamo subito magari della parte posteriore, visto che ci siamo. Questo tubo da 80 è interessante che vedete ha una derivazione a Y 80 60 60 proprio sotto la doccia. È quello di cui vi parlavo prima, quindi abbiamo rimosso il piatto doccia, ma tanto lo dovevamo sostituire e qua sotto c'è un bello spazio per poter lavorare con i tubi e quindi con la derivazione. Un ramo lo abbiamo inviato nella parte posteriore, abbiamo realizzato due bocchette, una la 8 nel gavone che alimenta il gavone e un'altra la 7 che alimenta la parte interna della camera. Serviva un'altra bocchetta logicamente quantomeno nell'ambiente della camera da letto e una bocchetta nel bagno. Questa è stata la cosa più difficile da realizzare, era prevista una bocchetta sotto il lavello, vedete sotto il numero 10, qua sotto c'era una bocchetta originale che in realtà non è stata possibile raggiungere, ma per problemi proprio di spazio, perché è molto semplice realizzare un impianto quando le pareti non sono presenti, è molto più difficile realizzarlo a camper chiuso, quindi non c'era materialmente lo spazio per poter passare e quindi abbiamo deciso di realizzare una cosa un po' particolare, quindi di uscire in questo punto nell'angolo del vc del locale toilette e utilizzare un mediante una stampa 3d ore, ho progettato e realizzato una scatolina che mi permette di uscire con la bocchetta 9 con la bocchetta 10, quindi metà del flusso alimenta la toilette e l'altra parte l'altra metà alimenta all'interno. Abbiamo quindi la 9 e la 7 che alimentano perfettamente la parte interna. In realtà come vedete qui c'è una T e la T è stata diretta nella parte inferiore sotto il gradino per alimentare la bocchetta 6, questa bocchetta 6 è una bocchetta che riceve meno aria ed è anche chiudibile, quindi eventualmente questo ramo è proprio escludibile. In realtà l'ho fatta per sicurezza, nel senso per avere una modularità di bocchette e la possibilità di aumentare un pochino il flusso nella parte posteriore nel caso in cui fosse particolarmente freddo o nel caso avessi la necessità di aumentare un pochino la quantità di calore posteriormente. Nella parte anteriore invece la cosa è stata abbastanza complessa. L'80 si è diviso in due e un ramo è andato nella parte anteriore, nella 1 e nella 2. La 1 è stata prevista esclusivamente nella parte anteriore ma tendenzialmente con un'attenzione alla cabina di guida perché anche questa essendo un punto particolarmente freddo è chiaro che va trattata in una certa maniera. La 2 è prevista prevalentemente nella dinette, poi questa Y divide ancora in due il flusso, la 3 alimenta la dinette, l'altro ramo alimenta la bocchetta 4 ma abbiamo aggiunto una bocchetta, una 5 su una T, quindi questa C, la 5 come vedete e la 6 sono bocchette che stanno su un ramo secondario della T. Questo ci ha permesso un pochino di equilibrare in flusso e di garantire con delle bocchette chiudibili una modularità e la possibilità di avere delle modifiche sul flusso generale. In realtà poi alla fine non ce n'è stato assolutamente bisogno perché funziona perfettamente così. L'area di ingresso che viene prelevata dall'interno del veicolo e viene trattata, quindi scaldata e rimandata all'interno, è stata prelevata da sotto il frigo. C'era già una feritoia in questa parte che vedete e c'era già una bocchetta che in realtà veniva utilizzata negli impianti originali come uscita dell'area, l'abbiamo utilizzato come ingresso dell'area. Facendo il calcolo della portata, questa feritoia più questo ingresso in millimetri quadri non c'erano assolutamente problemi e quindi era sufficiente, cioè la somma delle due è maggiore del cerchio da 90 per il prelevo dell'aria da scaldare. Andiamo a vedere a questo punto i risultati che sono molto molto interessanti. Le bocchette che sono praticamente tutte uguali le abbiamo aperte tutte quante, abbiamo atteso un buon quarto d'ora e abbiamo messo al massimo il termostato in modo da fornire la massima potenza. Allora nella 1 e nella 2, nella 1 e nella 2 abbiamo praticamente lo stesso flusso e nella 3 abbiamo un flusso leggermente maggiore e come ci aspettavamo la 5 e la 6 sono quelle che avendo una derivazione a t hanno un flusso leggermente inferiore, 6 e mezzo, 6 e mezzo, stiamo parlando di chilometri orari. I nodi sarebbe la stessa cosa, insomma proporzionalmente la sarebbe la stessa cosa, 9 e mezzo sulla 4, leggermente di meno. Nella parte posteriore invece abbiamo un 11 come in realtà sulla 1, un 9, un 7 e un 11 nella parte posteriore. Vedete il volume è molto inferiore. Adesso, qual è stato il nostro ragionamento? Abbiamo sommato tutte quante le velocità nella parte anteriore le abbiamo proporzionalizzate sul 100 per cento, quindi la loro somma è 58,5. Nella parte posteriore invece la somma delle velocità arriva a 38. Proporzionalizzando tutto su 100 abbiamo che nella parte anteriore abbiamo un 60,6 per cento e nella parte posteriore abbiamo un 39,4 per cento. Devo dire che questo quando ho visto il risultato ho detto ok secondo me funziona bene. La teoria e quindi il ragionamento che abbiamo fatto è assolutamente corretto e vi posso garantire che non solo c'è una uniformità all'interno del veicolo con le temperature che abbiamo trovato in questi giorni che vi posso dire stiamo intorno ai 3, 4, 5 gradi di notte quindi non freddissimo però una temperatura comunque invernale. Analizzando questo risultato devo dire che sono veramente molto soddisfatto perché la teoria come dimostrato è stata realmente fatta con criterio. Dopo circa una settimana di utilizzo anche un pochino di più vi posso garantire che tutto ciò corrisponde a verità. Abbiamo quindi queste due zone che sono assolutamente perfettamente bilanciate quindi questo 60 40 questo è 61 39 ma non è questo. Il problema è assolutamente un obiettivo da ricercare quando si fa una progettazione di un impianto con una pianta similare a questa ovviamente poi è logico che avendo piante diverse si potrà ragionare in maniera diversa. Il risultato però più interessante è quello della costanza del riscaldamento durante il tempo sia nella parte notturna sia nella parte diurna cioè nel momento della notte sia nel momento in cui soprattutto noi andiamo a mangiare. Qual era il problema che avevamo prima? Il riscaldamento Alde come sapete ha un grosso beneficio in termini di sensazioni ma ha parimenti una grossa inerzia di riscaldamento sia nel riscaldamento sia nel raffreddamento. Allora vi spiego cosa succedeva. Succedeva che nel momento in cui supponiamo di puntare la temperatura a 20 gradi come temperatura standard, una temperatura di comfort in cui si 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 gode di un buon comfort nel momento in cui questa zona veniva abitata e c'era la parte della cucina attiva questo dura circa un'ora un'ora e me un'ora un'ora e mezza quando si sta insieme anche due ore questo periodo qua la temperatura dell'interno tende ad aumentare per la presenza per la nostra presenza e per la presenza logicamente dei fumi della cucina. Questo comportava che uno spegnimento del bruciatore e una progressiva riduzione dell'emissione di calore da parte dei radiatori. Questo spegnimento per circa un'ora e mezza portava dopo un'ora e mezza il camper praticamente ad essere riscaldato solamente tramite il calore umano e il calore della cucina che tendeva a spegnersi. Quindi c'era un momento in cui il veicolo era sostanzialmente senza riscaldamento sia per evitare questo perché si iniziava a sentire una sensazione abbastanza fastidiosa di freddo soprattutto nella parte inferiore come ovviamente si può immaginare si aumentava la temperatura richiesta quindi si porta a 22 23 gradi ripartiva il bruciatore per riportarlo in temperatura però questa inerzia termica che ha il sistema ad alde non ci permetteva di avere un riscaldamento subito pronto alle nostre esigenze quindi passavamo una buona parte del nostro tempo con una sensazione di fastidio una sensazione di freddo nella parte inferiore. Ecco questo invece non accade con il sistema VEBASTO perché il sistema VEBASTO è molto più diciamo il sistema ad aria a gasolio perché è molto più pronto a ripartire e quindi questo buco che sia in realtà sia sia comunque anche in questo sistema ad aria è meno sentito rispetto al sistema precedente quindi io sono assolutamente contentissimo del risultato che abbiamo ottenuto credo che per oggi sia tutto per queste nuove puntate diciamo di questo 2023 se vi è piaciuto il video chiaramente mettete un like e iscrivetevi al canale se avete delle domande fatele nei commenti mi scuso fin da ora se non riesco a essere molto pronto nella risposta ma se avete veramente dei dubbi che vi che non vi fanno dormire la notte chiamate in sede così almeno è la cosa parlare direttamente con me è la cosa è molto più semplice e comunque iscrivetevi al canale mettete un like eccetera eccetera e come al solito ci vediamo alla prossima